Allora, io e Rosalba ci siamo sentite innanzitutto per la copertina del libro, e già solo per realizzare la copertina abbiamo fatto un percorso interiore nella sua intimità che è stato molto lungo, un po' perché sia io che lei abbiamo una chiacchiera molto fluente, quindi dalla nascita della copertina che poi è stata elaborata e rielaborata più volte perché lei ha voluto fortemente che ci fosse il profilo di sua figlia all'interno, e quindi siamo andate anche oltre l'aspetto professionale raccontandoci un po' delle nostre vite ed anche della motivazione per cui lei voleva il profilo di sua figlia all'interno della copertina. Una volta terminata l'illustrazione della copertina, probabilmente proprio perché Rosa si è sentita molto partecipe nella creazione di quest'ultima, non è stato un ok vorrei questo disegno, fammelo, quanto piuttosto un percorso che abbiamo fatto insieme per lo sviluppo, e quindi ha deciso che le sarebbe piaciuto che ci fossero stati altri momenti del suo testo che venissero ripresi all'interno del libro. Da qui è nato tutto, da qui abbiamo iniziato a confrontarci e ripeto è stato scambievole perché Rosa Alba si potrà confermare che lei all'illustra molto concreta nella visione delle immagini, del tipo sì mi piacerebbe una donna su una spiaggia per dire, e lì la mia idea è stata un po' che un'immagine troppo concreta non avrebbe rappresentato appieno il suo libro, perché appunto il suo libro è fatto di parole, di pensieri, di sensazioni, e un'immagine che semplicemente rievoca una persona che è lì seduta non avrebbe sicuramente sortito un effetto adeguato rispetto al messaggio che si voleva trasmettere. Ne abbiamo parlato tanto, tanto, e quindi i concetti poi, sai, le parole quando si sviluppano continuano ad andare oltre, e quindi sono entrate nuove idee, nuovi messaggi che lei poteva inserire, non potendoli inserire tramite le parole, abbiamo deciso di inserirli all'interno delle illustrazioni e quindi da qui è nato tutto. Grazie. 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 Grazie.